salve dal vostro saint jean oggi ho già caricato tre video uno era mi sembra dell'anno scorso un tutorial su come lavare i piatti spero vi possa essere d'aiuto per oggi è tutto domani forse caricherò altro materiale non lo so vi saluto arrivederci ciao ricordate comunque mettere mi piace ai miei video che vi piacciono iscrivervi al canale e di lasciare dei commentari se potete e non so come fare a a chiedere la vostra collaborazione la collaborazione dei miei iscritti o del mio pubblico perché non so come si collabora in youtube sarebbe interessante un saluto a tutti e poi adesso non so quando giocherà la nazionale italiana di calcio nei mondiali ma vediamo come va vediamo stiamo a vedere perché io comunque le partite non riguardo bene non mi piace troppo noioso a me basta vincere cioè per me l'importante non è partecipare e vincere e perché se fosse per me neanche parteciperei però se si vince si vince e poi per sto cercando dei temi come oggi che ho trovato qualche tema non è impresa facile ma neanche tanto difficile e spero che il video della gattina vi piaccia molto affettuosa e poi tutorial come lavare i tappeti cioè come asportare i peli delle mascotte degli animali dai tappeti di casa che è sempre un problema per tutti quelli che abbiamo animali in casa a quattro zampe poi devo preparare altri commenti libreschi soprattutto vorrei fare qualche video in inglese però devo leggere in inglese devo riprendere la pratica dei video ma inglese perché da molti anni che non lo parlo più quindi farò dei video in inglese e farò anche altri video sui libri solo che devo trovare nel tempo vi ringrazio di seguirmi mi raccomando fate vedere i miei video ai vostri amici familiari i parenti vicini di casa contatti in internet anche nemici perché saranno nemici vostri non necessariamente miei ciao ed è presto dal vostro santo e ciano